Sono molto bravi, molto chiari nel loro modo di giocare e quindi studiare una squadra così è da una parte abbastanza facile perché sono davvero molto bravi, molto chiari, hanno un'idea chiara di come loro giocano e di come difendono e dall'altra parte ci sono le difficoltà nell'incontrare una grande squadra con dei grandi giocatori, è una squadra di spessore penso internazionale, che salta all'occhio intanto è la forza e la qualità in generale perché loro dappertutto in difesa con Benatia, Castan, adesso Maicon non c'è però sono tutti giocatori di straordinaria forza e di straordinaria personalità e qualità quindi a centrocampo hai detto bene tu Strotman ma non dimentichiamoci De Rossi, Pjanic, Nainggolan insomma sono tutti giocatori come ho detto straordinari nella forza, nella personalità e nella qualità è fondamentale essere compatti ma dopo è altrettanto importante essere molto aggressivi, giocare, ripartire, bisogna fare un po' tutto perché se ci limitiamo a fare una cosa sola non basta, siamo consapevoli di quello che andiamo, di chi andiamo ad affrontare, siamo anche consapevoli delle nostre capacità. Con la squadra, facendo una grande partita non dobbiamo pensare di fare una cosa sola ma dobbiamo pensare di fare tante cose bene e questa è l'unica maniera che il Bologna ha di fare la partita contro la Roma.